Hey ragazzi qui con voi c'è Frostylox Oggi in questo video vedremo 5 boss che potrai aggiungere al tuo mondo di Minecraft Beh questi 5 boss sono veramente pericolosi e terrificanti Ma vi dico già che nel mondo di Minecraft ce ne sono molti altri che potrete aggiungere Beh che dire guardate il video fino alla fine, lasciate like e enjoy Numero 1, il boss gallina In questa mod hai una possibilità su 10 di poter spawnare una gallina gigante Ma che non è una semplice gallina gigante ma proprio un vero boss terrificante Perché bene si questa gallina non ti attaccherà mai Però è capace di spawnare dei piccoli zombie e dei piccoli scheletri wither Che ti potranno veramente dare del filo da torcere E vi dico già sono molto pericolosi Numero 2, il ghast demoniaco Questa mod infatti ti aggiunge al gioco un ghast con 4 facce Davvero spaventoso E che nel combattimento oltre a sferrarti mille sfere di fuoco E' capace di spawnare altri ghast con lui E che anche loro ti daranno del filo da torcere Davvero Incontrarlo nel nether non sarebbe una bella cosa Numero 3, il titan 2004 Questo mostro è davvero tremendo Sia dall'aspetto sia dalla sua skin che dal suo combattimento Infatti lui è capace di sferrarti molte sfere di fuoco Come fai il ghast Però Non è che distrugge granchè Infatti per sfuggire a questa tecnica Basta che ti butti in acqua E vedrai che non ti farà niente Ma Per il combattimento a terra E' molto Forte Infatti Ti può calciare togliendoti un botto di vita Se non ammazzandoti al primo colpo Senza contare La sua abilità di distruggere le montagne Quando ci passa vicino Davvero Questo boss E' molto terribile Che una volta mi ha addirittura fatto crashare il mondo Numero 4 Lo Slenderman Ebbene si Abbiamo anche una mod Dove viene aggiunto Lo Slenderman Come boss Davvero terrificante Nel video che vi sto facendo vedere Ovviamente Riuscirete a vederlo poco Perché questo Slenderman E' capace di farti Buggare il gioco E quindi non riesci a vederlo Dandoti anche Molti effetti negativi Per questo Non riuscirete a vederlo Nella clip di sopra Ma comunque sia vi dico Che davvero Se potete aggiungerlo al vostro mondo di Minecraft Aggiungetelo E' davvero spaventosissimo E' davvero spaventosissimo Numero 5 Ebbene si Per ultimo Ho lasciato uno Tra le creature Di cui ho più parlato Nel mio canale Cioè Il megalodon Davvero Abbiamo anche un addon E' un megalodonte Capace di Seminare il terrore Sul mondo di Minecraft Come lo seminava Qua sulla terra Molti anni fa Davvero E' terribile E' pazzesco Uccide i delfini E uccide i pesci E anche i calamari Per non parlare dei propri simili Bene Il video finisce qui Ditemi se questo video vi piace E volete la seconda parte Lasciate like Soprattutto Iscrivetevi Condividete Scrivete un parere nei commenti E alla prossima Ciao Ciao Ciao